Al sindaco di Albino, architetto Luca Carrara, vogliamo chiedere qualcosa in merito alla pulizia municipale, in merito prima di tutto alla riconferma dell'attuale comandante e alla figura di fa Paolo Cappello che sarebbe consigliere delegato alla pulizia locale. L'anno scorso, dopo che il comandante Guerini aveva rassegnato le sue dimissioni, avevamo visto questa figura di Marenzi che era già preposto come vicecomandante e che è subentrato. Era un subentro previsto fino a dicembre, ma i rapporti sono ottimi, siamo convinti che stia facendo un ottimo lavoro, è riuscito a creare comunque una discreta armonia all'interno del corpo di polizia, ha un ottimo rapporto con i consiglieri comunali e quindi sta ben lavorando e quindi abbiamo ritenuto opportuno riconfermargli l'incarico. Mentre invece per quanto riguarda il consigliere delegato, il consigliere Paolo Cappello da me è sempre stato considerato ufficiosamente come consigliere delegato, ma il nostro statuto non lo prevedeva nel suo ordinamento. Per cui pur avendo avuto la mia fiducia massima e quindi essendosi già occupato negli altri anni del percorso amministrativo delle vicende e dei rapporti con la polizia locale e tutto quanto, non lo era formalmente. Ha approvato definitivamente a gennaio il nuovo statuto, abbiamo previsto nell'organizzazione del nuovo statuto la figura del consigliere delegato e quindi abbiamo provveduto immediatamente a ratificare la nomina del consigliere Paolo Cappello. Tiene i rapporti con la polizia, tiene i rapporti a livello sovraccomunale per quanto riguarda il tema della sicurezza, è il mio delegato nelle trattative e nelle verifiche del progetto della comunità montana per la videosorveglianza, è una persona che ormai fa da riferimento per le vicende proprio di riorganizzazione del sistema viabilità ad Albino ed è una persona che quindi ha lavorato davvero in modo straordinario per il comune e che quindi mi sento di ringraziare e di gratificare. Spero che nella prossima amministrazione davvero tanti consiglieri delegati abbiano queste caratteristiche, cioè spirito di servizio gratuito per il proprio territorio. Possiamo quindi dire che è un tréunion tra la polizia locale e l'abinistrazione comunale? Assolutamente sì, è il nostro interfaccia diretta con la polizia locale e ripeto per tutte le vicende che riguardano la sicurezza sul nostro territorio a livello sovraccomunale. Grazie signor Sindaco, da Albino lì nello studio.